buongiorno benvenuti a questa video analisi del 9 maggio 2016 comincia un'altra interessante settimana video analisi come sempre la potete ricevere gratuitamente via email se passate col mouse sopra questo video se lo state vedendo su pc se invece su smartphone e tablet basta toccare lo schermo e vedrete comparire sopra la mia testa la lettera i di imola cliccate su quella lettera i comparirà un ulteriore finestra cliccando lì vi riporterà al mio sito dove vi spiega tutto come poter ricevere gratis direttamente nella vostra casella di posta elettronica alla mia destra vedete già il sito di st o che broker che sponsorizza questa video analisi potete contattare i riferimenti via email eccolo lì il nome che sta comparendo proprio adesso marco pianezza persona molto disponibile preparata gentilissima vi dirà tutto quello che serve che c'è da sapere su questo broker le condizioni gli spread che praticamente sono le commissioni che vengono applicate per fare il trading non ci sono altre commissioni o ci sono in base a quello che la tipologia di conto insomma chiedete a marco che vi dirà tutto quello che c'è da sapere c'è adesso sta passando anche il suo indirizzo email tra le altre cose sul sito proprio di st o senza alcuna registrazione tranquillamente quindi venendo qui sulla voce in alto al menu accademia si aprirà un sottomenu e qua c'è video analisi giornaliere dove ci sono tutte quelle che ho fatto fino ad essere quelle in automatico vengono caricate su questa pagina quindi se volete risalire indietro e vedere qualche vecchia video analisi e l'archivio lo trovate tutto all'interno del sito scusate di st o ripeto accademia poi qui video analisi giornaliere comincia quindi una nuova settimana adesso passiamo eccola qua la piattaforma st o la famosissima metatrader 4 comincia quindi un'altra settimana questo è l'indice nick che ha aperto ha inaugurato l'ottava con il segno positivo e c'è un segnale di vedete di candela verde e kinashi grafici e kinashi sono molto simili alle candele giapponesi sono differenti perché i prezzi soprattutto cambiano di apertura e chiusura in quanto sono il risultato di una formula molto simile a quella dei pivo point ma la cosa fantastica di questi grafici che vi disegnano dei trend puliti e anche la possibile inversione del trend come per esempio sta è accaduto sulla l'indice nikkei di tokyo dove qui vedete c'è questa candela verde il supporto di riferimento un po distante non è stato esattamente come successo qui purtroppo le situazioni spesso non sono perfette ottimale graficamente parlando però si può pensare ad un rimbalzo dell'indice di tokyo vediamo la cosa prevede il menu odierno nella tabella praticamente dei dati giornata tranquilla non ci sono dati molto pesanti dopo la scorpacciata di venerdì scorso a proposito di venerdì scorso i dati sul lavoro sapete sono tre su tre settimana scorsa adp negativo richieste di sussidi disoccupazione negativo e anche la variazione non fa però è stata negativa però i salari orari medi sono stati in linea con le attese quindi qualcosa sta cambiando in negativo l'occupazione fino adesso era il cavallo di battaglia di obama del ovviamente anche della federal reserve era l'aspetto che dava meno problemi per quanto riguarda l'economia usa perde colpi e il tutto sta a vedere come andrà a interpretare il mercato questa cosa intanto vediamo torniamo alla piattaforma di st o per vedere gli indici americani l'impostazione degli indici americani e si vede qualcosa di interessante perché facciamo uno zoom vedete si comincia a vedere sul nasdaq dopo la discesa che c'è stata dalla resistenza 4552 si comincia a vedere una candela verde chi nasce idem per quanto riguarda anche l'indice s&p 500 poi bisognerà comunque attendere la chiusura della seduta odierna per avere la conferma o meno insomma comunque comincia a vedersi un possibile spiraglio rialzista dopo tutta questa flessione che c'è stata dalle resistenze siamo ci siamo un po allontanati dai massimi storici dove erano arrivati gli indici americani dicevo facciamo attenzione guardiamo un po torniamo a venerdì dati negativi del lavoro che in qualche modo allontanano la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse che oramai è dato per scontato dal mercato che ci sarà ancora nel 2016 anzi se ne prevedevano un paio dai primi quattro prospettati al meeting del famoso meeting del 15 16 dicembre se non ricordo esattamente la data comunque di dicembre in cui ci fu quel rialzo dei tassi interesse usa ora in base a quello che stiamo quello che sono stati dati graficamente ci potrebbe essere anche un rialzo con queste candele verdi questo accenno di candela verde che comunque bisogna aspettare la chiusura della seduta odierna e vedere se combaciano che corrispondono a dei supporti però quello che voglio dire il fatto che il mercato i dati sono stati negativi questo potrebbe allontanare quindi un dato negativo e lo dicevo anche meno di potrebbe essere interpretato positivamente dal mercato quindi un dato sull'occupazione che comincia o comunque non solo quello di venerdì l'occupazione in genere comincia a stentare unito al pil al primo pil del trimestre 2016 che è stato sotto le attese parlo sempre del pil americano potrebbe quindi indurre la borda della fede riserva a spostare magari a fine anno un rialzo dei tassi e questa notizia potrebbe essere accolta positivamente dai mercati perché storicamente sapete benissimo che i mercati sono allergici aumenti di tassi interesse invece piace questa immersione di liquidità che arriva questi soldi questi soldi che arrivano questa in tutta liquidità che arriva iniezione di liquidità che arriva sui mercati è sempre stata celebrata in maniera positiva dagli operatori del settore quindi il tutto sta a capire adesso mercato interpreterà positivamente il fatto che l'economia americana non va bene quindi questo a lontano rialzo i tassi oppure il mercato comincerà a preoccuparsi e dire qui attenzione l'economia americana comincia a vacillare se vacila quella americana quella cinese ancora non si è capito se parli stiamo parlando di un atterraggio morbido duro di un'economia che marciava a doppia cifra per quanto riguarda il pil adesso siamo al 65 per cento circa se anche la cina già è lì per lì che il mercato sta cercando di capire in che stato è il stato di salute l'economia cinese se anche quella americana comincia a vacillare il mercato comincia a preoccuparsi venire giù quindi come vedete è difficile stare dietro agli umori del mercato per questo motivo vi invito a guardare i grafici e quindi seguire prendere un riferimento da loro fino adesso resta l'impostazione ribassista sul nikei l'indice di to che abbiamo visto c'è già una candela verde si sta formando anche su quello americano quindi potrebbe sempre a propendere più da un mercato che accoglie positivamente un dato negativo in ottica positiva che allontana un rinvio dei tassi del rialzo dei tassi interesse americani vedremo l'unico modo per scoprirlo come in questi casi lo scopriremo solo vivendo giornata per giorno per giorno vediamo l'indice usa intanto partiamo dal grafico daily dove l'impostazione resta ancora al ribasso e anche qui cominciano ad apparire delle candele verdi e chi nasce sul questo è l'indice tedesco è sull'euro stocks anche sull'inglese si vede del verde anche qui sull'indice spagnolo mentre restano rossi l'italiano e il francese quindi l'impostazione resta ancora al ribasso si comincia a vedere del verde qui passiamo intraday giusto per vedere come sono partiti questa settimana questo è un time frame a 30 minuti l'indice italiano era partito bene adesso vedete questa candela rossa candela rossa anche sull'indice tedesco ma qui parliamo di dinamiche differenti intraday la giornata è appena cominciata quindi potremo davvero a vedere tanti cambiamenti anche qui nell'intraday di trend in versioni possibili bancari che sono croce e delizia con un indice fuzzimib che ha chiuso la settimana meno 4 per cento soprattutto per l'andamento dei titoli bancari che stanno ancora cercando di capire se questo fondo atlante potrà essere di aiuto o meno sembra che possa essere visto come più un paracadute come ho parlato in passato insomma per evitare situazioni drammatiche ma di aiuto non tanto tra le altre cose c'è intesa che dovrebbe essere garante dell'aumento di capitale di veneto banca che si sta tirando indietro ha detto noi non faremo più insomma cerchiamo anche in quel caso cercheremo l'intervento del questo fondo di atlante insomma qui l'impostazione del verde sui titoli bancari non si vede resta tutto al ribasso almeno per il momento e non è una notizia positiva per il nostro indice fuzzimib perché il peso dei bancari all'interno del paniere è tale che va a influenzare in maniera importante l'andamento del nostro fuzzimib ecco perché magari a volte sottoperforma gli altri indici americani europei proprio perché magari il titolo il comparto bancario è quello che dà più problemi ora cominciamo a fare un'analisi intermarket passiamo forex e materie prime vedete con st o potete creare più piani di lavoro vi invito a farli così anche se avete solo un monitor sullo schermo solo pc potete tranquillamente passare da un mercato all'altro obbligazionario materie prime valute tutti i mercati offerti da st o la situazione qui è interessante anche qui in questo caso questo è il petrolio quotato a new york qui usd cad che li metto uno sopra l'altro perché sono correlati in maniera inversa se sale uno scende l'altro e viceversa mediamente non è automatica la correlazione in teoria sarebbe partita un'inversione al rialzo per usd cad è al ribasso di conseguenza vedete proprio quasi simile non è stata proprio praticamente simile l'impostazione a ribasso sui e soil qui non accenna a perdere a venire giù a fare praticamente lo stesso movimento che stiamo vedendo sul usd cad che sale qui invece non c'è la stessa stessi gradini a scendere perché proprio c'è una situazione oramai probabilmente conoscete dell'incendio la situazione d'emergenza stato di emergenza che c'è attualmente in canada che ha portato ad una drastica riduzione del petrolio e per le dinamiche domanda offerta fino adesso il petrolio il prezzo petrolio scendeva perché c'era troppo offerta troppi produttori di petrolio e non c'era un mercato che poteva assorbire questa offerta ora l'offerta sta diminuendo a causa di questo vasto incendio in maniera importante di conseguenza stanno aumentando i prezzi ed ecco perché us oil per il momento ancora non vuole scendere abbandonare cominciare a prendere la correzione così come graficamente è impostato dalla resistenza intorno ai 46 dollari proprio per questo motivo e quindi via questa situazione vedremo insomma se nel momento in questo incendio sarà addomato vedere poi quelli che saranno stati i danni poi effettivamente partirà una correzione al ribasso per quanto riguarda il petrolio invece loro a destra gold resta sempre in una posizione di possibile inversione al ribasso dalla resistenza sui 1.300 dollari passiamo al piano di lavoro forex qui ci sono quattro cambi importanti euro dollaro sterlina dollaro dollaro contro franco svizzero dollaro contro yen tutti e quattro l'impostazione vede ma non solo contro questi anche contro australiano neozelandese per esempio vede un'impostazione tale di un possibile rafforzamento della moneta americana attenzione che la sterlina oggi ha toccato anche un nuovo minimo da quando è partita questa inversione sulla resistenza in area 1.46 e 62 diamo uno sguardo anche a il mercato obbligazionario qui in alto us 10 il tinota 10 anni 10 anni anche il bund tedesco e il nostro btp e qua mi piace sempre fa notare come si può vedere lo spread famoso spread btp bund tra il nostro obbligazionario e quello tedesco per quanto riguarda le notizie dal web buzzi unicem sicuramente protagonista perché ha rilasciato e tornato all'utile un buon trimestre già da venerdì ha invertito la rotta con questa notizia positiva graficamente siamo sotto sotto la resistenza di 16 98 quindi solo una chiusura sopra tal livello la violazione di questa resistenza potrà portare ad un nuovo trend rialzista partito dal rimbalzo dal famoso supporto dei 12 e 24 visto che ci siamo guardiamo anche qualche altro titolo come apple guardate qui la c'è stata questa candela verde se ricordate che io dissi attenzione non è da prendere in considerazione per chi vuole essere ulteriormente prudente perché secondo quella che la mia strategia sui titoli azionari multi dei con le chi nasci quella candela verde doveva anche essere confermata in una seduta in cui il titolo ha chiuso col segno più invece fu una seduta negativa per apple quindi essendo chi è stato più prudente è stato premiato perché poi vedete ora siamo tornati sotto il supporto restiamo nella zona supporto aspettiamo eventualmente una possibile conferma dalla candela grafico e chi nasce con una candela verde bene con questo è tutto vi ringrazio per la cortesa attenzione da ora a tutti voi una buona giornata attenzione da ora a tutti voi una buona giornata grafico